Buongiorno amici e benvenuti in un nuovo video. Io sono Ima e questo è il mio canale YouTube. Oggi cambio di location perché in Svezia comunque il sole non c'è sempre e quando c'è bisogna essere contenti e non bisogna mai dare per scontato che ci sia il sole. Quindi, siccome sono vicinissima alla finestra del salotto e dentro un po' di luce naturale, ho pensato meglio che la ring light perché i video precedenti quasi tutti sono fatti con la luce artificiale perché non esiste. Adesso invece che le giornate iniziano ad essere più luminose, preferisco andare a cercare i posti dove il sole entra dalle finestre e quindi c'è un'illuminazione un po' più naturale. Comunque, a parte queste cose, questo video sarà un book tag che ho visto da Gaia, che a sua volta l'ha visto da Matteo Fumagalli. Saranno insomma 50 domande scomode sui libri. Io non sono preparate prima, ho qui il mio computer e leggerò le domande e le risponderò. Allora, partiamo subito. Cartonato o brossura? Ma direi, senza pensarci due volte, direi brossura perché preferisco che i libri siano più maneggevoli, preferisco un formato più piccolo. Ovvio se, cioè, non mi piacciono quando i formati sono troppo piccoli, per esempio ho comprato 4321 in inglese, in paperback, e tipo il font è minuscolo, cioè il libro sembra tipo un cubetto e non si legge un cavolo, cioè me lo sono presa in ebook perché non mi varia anche di sforzarmi troppo. Quindi preferisco il tascabile se comunque il font ha una, cioè, mettere un font di una grandezza decente, di modo che non divento cieca. Non mi piace, cioè la copertina rigida non la preferisco perché si rovina subito se la trasporto. Io sono una persona che legge molto in giro, che ho sempre un libro in borsa, quindi mi scoccia insomma portarmi un libro e poi che si rovini facilmente. Poi è anche le edizioni tascabili si rovinano, però le trovo un po' più versatili, quindi preferisco insomma la brossura al cartonato. Questa dai era abbastanza facile. Sopraccoperta sì o no? Boh. Mi dà un po' fastidio, soprattutto se è bella. Per esempio i libri di Olga Tocaccio che hanno una copertina bellissima e quella la tolgo sempre per evitare insomma che si rovini. Però sì, a volte la tengo se non è troppo, se non dà troppo fastidio, però se magari mi rendo conto che trasportandola si rovina allora la tolgo. E quindi non mi cambia. Libri di seconda mano o nuovi? Ma a me piacciono molto i libri usati, sinceramente. Compro spesso i libri usati, soprattutto qua in Svezia, perché qua c'è un concetto un po' diverso rispetto al libraccio. Che comunque, cioè quando tu dai i libri al libraccio ti danno pochissimi soldi indietro, però loro li rivendono per la metà del prezzo o anche un po' di più. E quindi, boh, non conviene molto. Invece qua in Svezia, tu quando dai i libri ai negozi di seconda mano non ti danno niente, però i libri sono venduti a 2 euro, l'equivalente di 2 euro. Oppure se sono in copertina rigida 3 o 4 euro, però comunque magari un libro in copertina rigida ti costa 20 euro. In inglese, sto parlando dei libri in inglese, in italiano costano 20 euro anche in copertina tascabile, quindi lasciamo stare. E quindi, insomma, preferisco comprare i libri usati sia per il prezzo, ma sia anche perché mi piace magari trovare delle sottolineature, trovare anche cose. Tipo a volte ho trovato dei biglietti del treno o segnalibri particolari. Insomma, mi piace capire un po' qualcosa, se riesco, della persona che l'ha avuto prima di me. Penso che sia interessante, perché puoi capire le cose di una persona anche vedendo che cosa sottolinea. A meno che, insomma, non sia un libro che quella persona ha studiato per scuola. Comunque sì, tendenzialmente, insomma, li preferisco usati, però anche nuovi non mi dispiacciono. Vabbè, audiolibri o no? Audiolibri tantissimo, perché per me gli audiolibri sono proprio... Cioè, quando non riesco a leggere proprio fisicamente, quando pulisco casa, lavo i piatti. Quindi, più spesso quando sono dentro casa rispetto a quando sono fuori, perché quando cammino per strada mi lascio un po' distrarmi, insomma, da quello che vedo. Io uso sempre, io ascolto sempre audiolibri, sempre. Mi dispiace, perché ho sentito anche un'altra ragazza che ne parlava su Instagram, che, purtroppo, con questa cosa che io ho, l'abbonamento sia Audible che Storytel, ascolto molti meno podcast, perché penso sempre devo sfruttare l'abbonamento, perché, insomma, lo sto pagando. Quindi, ascolto sempre libri, non che mi dispiaccia. Però, comunque, questo ho tolto un pochino di tempo all'ascolto dei podcast. A volte, se non riesco a metterci la stessa concentrazione, nello stesso ascolto, per esempio, durante l'estate ho lavorato come assistenza clienti via chat o via mail a lavoro. Io avevo sempre le cuffie e mettevo sempre podcast o comunque video YouTube, perché ascoltare un libro dovevo prestare troppa attenzione, ma dovevo lavorare, quindi non potevo prestare troppa attenzione. Era un lavoro piuttosto meccanico, però volevo ascoltare qualcosa di sottofondo e quindi mettevo spesso podcast o video, tipo quelli che sto facendo io adesso. Perché, comunque, sono piacevoli anche da ascoltare. Però, audiolibri, sì. Audiolibri, sì. Compri in base alla copertina? Allora, tempo fa? Sì, tantissimo. Perché, cioè, se la copertina mi ispira, io compro il libro, poi magari mi leggo un po' di cosa parla, perché se è di un genere che totalmente non fa per me, allora può ispirarmi tantissimo, ma non lo compro. E invece adesso che comunque ho tantissimi libri da leggere, ricevo tantissimi libri dalle case editrici, cerco un attimo di ridurre e di comprare veramente quello che secondo me mi piace, perché ormai dopo un po' di tempo che uno legge, ha un po' un fiuto per quello che ti può piacere. Poi ovviamente le fregature le prendi comunque, e non è che ti possono piacere tutti i libri, però cerco un po' di non farmi prendere dall'impulsività, insomma. Magari se vedo un libro che mi ispira e però non conosco niente, aspetto a comprarlo, più o meno, quasi sempre, a meno che proprio non sia colpo di fulmine. Se la copertina è stupenda e tutto quanto, raramente lo compro. Cerco magari sempre di ascoltare qualche parere o di leggere qualche recensione, capire se può fare per me, anche se la copertina è bella. Se la copertina è brutta io non cago proprio il libro, quindi direi che la copertina esercita comunque un certo fascino. Quindi sì, compro in base alla copertina, ma adesso sto cercando di capire un po' di più quello che mi piace, non solamente in base alla copertina, però sì, indubbiamente mi affascina. Un bel libro con una brutta copertina? Allora, un bel libro con una brutta copertina... Allora, il primo che mi viene in mente è La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante, edizione italiana, copertina orrenda. Cioè, se io non amassi Elena Ferrante a follia, io non avrei mai neanche considerato quel libro. È orrenda la copertina. E poi quando ho visto che hanno fatto l'edizione inglese, che ha una copertina bella, non dico stupenda, ma comunque una copertina che magari ti invoglia, ho pensato, cavolo, perché per l'edizione italiana non ho fatto una copertina così brutta? Ecco, quindi direi sì, La vita bugiarda degli adulti, copertina brutta. Un brutto libro con una bella copertina? Allora, qua ce ne sono... Fami pensare. Quello di Camilla Boniardi, nota come Camilloc, che ha scritto questo libro che si chiamava... Non mi ricordo. Il resto dei miei sbagli. Una cosa così. E la copertina è molto bella. Io l'ho ascoltato in audiolibro perché volevo sapere, non volevo spendere i soldi per il libro, perché volevo un attimo capire se mi sarebbe piaciuto, ma non sono arrivata neanche a metà e non mi è piaciuto per niente. Però la copertina è molto bella. Primo libro mai letto. Allora, primo libro mai letto, penso sia stato un libro che era di mia mamma, di quando era piccola lei, e si chiamava Piccola storia di un cane. Quello mi ricordo come uno dei primi libri che io abbia mai letto, poi c'è stato Il mago di Oz, e poi alcuni libri delle Witch, e poi vabbè, Geronimo Stilton. No, vabbè, le Witch forse sono venute un po' dopo. Geronimo Stilton. Però direi che il primo 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 da bambina proprio ho letto questo libro, che si chiamava Piccola storia di un cane, però non chiedetemi di cosa parla, non chiedetemi di chi è. Però ce l'ho, ce l'ho in Italia. L'ultimo libro che hai terminato. L'ultimo libro che ho terminato, Grande era Onirica di Marta Azzurra Puntaroni. Molto bello, veramente molto molto bello. Sono indecisa, non so se mi piace di più questo o più il primo, perché direi che come scrittura forse mi piace di più l'altro, però la trama di questo mi piace di più. Molto bello. L'ultima serie che hai finito. Io non leggo serie. Io di serie ho letto solo L'Amica Geniale, quindi, boh, L'Amica Geniale, ma l'ho letta nel 2016, quindi non so se vale. L'ultimo libro che ho acquistato. Ho acquistato alla libreria inglese di Stoccolma tre libri, perché c'era l'opzione 3x2, e uno è Gli Argonauti di Imagine Hanson, un altro è Milk Fed, che però in italiano non è stato ancora tradotto, e l'altro ancora è un libro pazzo fuori di testa che si chiama A Ghost in the Throat, quindi un fantasma in gola, e di un'autrice irlandese. Sembra una roba assurda. Qual è il tuo genere preferito? Allora, il mio genere preferito? Romanzo familiare, mi piacciono i classici, però non sono una... di quelle persone che parlano solo di classici, che pensano che solo i classici siano veri libri, quindi, boh, mi piacciono i classici, però il mio comfort zone sono i romanzi familiari, e tendenzialmente direi narrativa, narrativa contemporanea, però anche i classici. Qual è il tuo libro preferito di quel genere? Boh, un libro preferito di narrativa, raga, cioè, non so. Di romanzi familiari, il mio libro preferito potrei dirvi I Budenbrook di Thomas Mann, mi è piaciuto tantissimo, l'ho amato, uno dei miei libri preferiti. Un romanzo di formazione, direi L'Isola di Arturo, perché il mio libro preferito della vita, direi L'Isola di Arturo di Elsa Morante. Però appartiene, sì, appartiene a narrativa, 900 italiano e romanzi di formazione, quindi forse mi piacciono i romanzi di formazione. L'Isola di Arturo di Elsa Morante, boh, l'amica geniale, vabbè, mi conoscete. Quale genere non leggi mai? Gialli, cioè, io troppo allergica. Appena vedo un libro, magari anche una copertina bella, appena tipo vedo che si apre con un delitto, sto male, cioè, non lo leggerò mai. Tranne Olga Tokarciuk, perché avevo amato tantissimo i vagabondi, sapevo che lei non avrebbe scritto gialli, infatti Guidal Tokarro sulle ossa dei morti si apre con dei delitti, però non è un giallo. Cioè, magari sembra un po' così, però non lo è per niente. Però di solito sono abbastanza allergica a questo tipo di trame, cioè, appena leggo che c'è un morto, bisogna indagare, fine. Leggi poesia? No, non tantissima, però quest'anno veramente ho comprato un bel po' di libri di poesia, perché voglio proprio leggerla. Cioè, ultimamente sono un po' fissata su questa cosa, non che abbia ancora applicato la mia fissazione, però ho intenzione di leggere poesia e al momento non ne sto leggendo. Leggi statistica scientifica? No. Leggi libri per ragazzi? No. Sei iscritta a qualche subscription box di libri? No, c'è romanzi.it, che non è che sono proprio iscritta, ma ha una collaborazione, però mi piacciono molto. Solo che il mio problema principale è che io possiedo tantissimi libri e mi piace un sacco l'idea di ricevere dei libri a sorpresa, ma con tutti i libri che ho da leggere, ricevere dei libri a sorpresa che magari mi ispirano, ma non è quello che voglio leggere, magari non è per niente quello che voglio leggere, mi mette un attimo in allerta. Se io fossi una che non ha libri, tipo che ne ha dieci da leggere, allora tranquillo, lo farei. Però per un motivo mio, per cui io ho tantissima roba da leggere e devo un po' decidere, insomma, a cosa dare spazio, non me la sento di fare... di iscrivermi. Però mi piace molto il concetto, trovo che sia molto bello. Se una è un po' più normale nell'acquisto di libri, secondo me è top con la subscription box. Qual è il tuo articolo libroso preferito? Articolo libroso direi... Boh, ho un segnalibro bellissimo che mi ha fatto la mia migliore amica perché lei è un'illustratrice e mi ricordo che al mio diciottesimo, diciannovesimo compleanno, non mi ricordo più, a un compleanno, mi ha fatto un segnalibro dove ci siamo io e lei e poi dietro mi ha scritto delle cose molto belle e ormai quel segnalibro è mezzo distrutto, però lo conservo con affetto perché, insomma, mi piace molto, è un bel ricordo e... infatti, cioè, se stai guardando questo video fammene un altro perché mi piacciono. E poi... la tazza di Virginia Woolf che mi hanno regalato in una libreria perché ho comprato troppi libri... no, c'era tipo questa offerta che se compravi un tot di libri ti regalavano un gadget a scelta e ho scelto la tazza di Virginia Woolf. Probabilmente l'avrete anche vista spammata su Instagram nelle mie... nelle mie foto perché c'è quasi sempre quando fotografo colazioni librose. Il mio segnalibro del momento... il mio segnalibro del momento... boh, io uso qualsiasi roba come segnalibro. Un... non qualsiasi cosa che c'è nella mia borsa diventa un segnalibro. Ho diversi libri in lettura, quindi in ogni... cioè, ci sono scontrini, qualche segnalibro magari che c'era già dentro il libro, niente di particolare. Qual è l'oggetto più strano che hai usato come segnalibro? Soprattutto se leggo a casa io metto tipo boh, qualsiasi cosa, un giornale sopra in modo da lasciare la pagina aperta o qualsiasi oggetto che c'è vicino a me se non ho un segnalibro nel momento. Una volta ho usato anche un pezzo di carta igienica e mi sentivo un po' sfigata, però vabbè, cioè, leggere tipo all'università con la carta igienica del libro, bello. Chi è il tuo ragazzo immaginario? No, a me non sono in grado con queste cose. Non sono mai stata una, tipo, io quando ero piccola amavo i Pokémon e mi ricordo che c'era la mia compagna di classe che lei era stra-innamorata di quello dei Pokémon e il protagonista. Cioè, a me piaceva come cartone, però non riuscivo a innamorarmi di una cosa che non esiste. Quindi io ho un po' questo problema. Cioè, magari mi piace vedere il cartone, mi piace leggere il libro, ma non è che mi innamoro di un personaggio. Magari mi innamoro della situazione, della storia e magari vorrei esserci io in quella situazione, però non è che mi innamoro del protagonista, quindi non so rispondere. Coppia preferita nei libri? No, non ditemi questo. Allora, allora, cioè, io sono proprio basic e dico Mariam e Connell, anche se, vabbè, cioè, io li amo, non so cosa dire, perché comunque, cioè, non è una coppia perfetta, però per me devono stare insieme. Basta, non dico niente, non dico niente, se non avete letto Normal People non potete capire. cattivo dei libri preferito, cattivo dei libri preferito, io ho un cattivo che mi fa simpi. Boh, ma mi viene in mente che ne so, perché io non leggo tante robe dove ci sono cattivi buoni, tipo i fantasy, robe così, però, tipo, Emma Bovary, cioè, Madame Bovary è uno dei miei classici preferiti, Emma Bovary è una stronza, però a me piace tantissimo perché è stronza, cioè, tipo, l'amo, perché, secondo me, è un bel modello, anche se, tantissimi la odiano, e invece a me piace, mi sta simpatica, quindi, non so se può essere considerata cattiva, nella storia di certo non è, non è proprio simpaticissima, però, a me piace perché, ci sta. La migliore avventura libresca? Cosa vuol dire? La migliore avventura libresca? Avventura tipo vai ragazza, andiamo in giro per il mondo, ok. Allora, proprio un libro in cui sono rimasta tantissimo immersa è stato, vabbè, L'isola di Arturo, che mi ha proprio calato dentro questo mondo che ho amato, ehm, l'amica geniale, ciao, ovvio, e, Normal P, vabbè, ovvio, cioè, sono tutti libri che io continuo a ripetere, perché sono libri che mi ha, che ho amato tantissimo, però anche, magari, romanzoni proprio familiari, come L'ottava vita, e, poi mi è piaciuto moltissimo La Valle dell'Eden di Steinbeck, che ho letto moltissimi anni fa, eh, un libro che mi ha proprio immersa nella sua, nelle riflessioni, invece è stato Segni e Uova, di Mieko Kawakami, bellissimo, un libro molto calmo, molto lento, che sicuramente non può piacere a tutti, però, a me è piaciuto tantissimo, proprio sono, mi sono proprio calata dentro queste situazioni, questi dialoghi, molto, molto giappo come, come libro, mi è piaciuto molto, andiamo avanti, serie, trilogie, standalones, standalones, perché di trilogie e serie io non ne leggo, mixed media book, o paragrafi, mh, boh, cosa vuol dire, infatti qua c'è scritto, questa non l'ho sinceramente capita, la interpreto come libri, commedia, tipo foto o altro, oppure con solo testo, boh, chissene, cioè, se un libro è bello, mi piace anche che abbia foto, altre cose, infatti tipo ho letto di recente l'archivio dei bambini perduti di Valeria Ruizelli, ha diverse cose dentro, foto, manifesti, poesie, altri magari citazioni di altri libri, mi piace molto questo, cioè, se un libro è scritto bene, mi piace. Qual è il tuo adattamento di libri preferito? Beh, Normal People, secondo me Normal People, molto riuscito. Beh, anche l'amica è geniale, però sì, la terza stagione ha avuto un po' di critichelle da fare, però Normal People direi che vabbè, è un po' più facile perché è solamente una stagione, quindi è più facile mantenere alto il livello, ecco, quindi direi che mi è piaciuto moltissimo. Adattamenti cinematografici o televisivi? Boh, uguale per me, non sono una grande, eh, non guardo tv, non guardo serie, guardo solo serie se sono tratte dai libri che mi piacciono, se no non le guardo. Quale libro necessita di un adattamento che poi tra l'altro che ne so che magari non ci sia già. Vediamo. Sarebbe fighissimo fare, cioè, io guarderei tantissimo l'ottava vita in film, anche perché poi l'autrice di lavoro fa la drammaturga, boh, non so come si dice, e secondo me il suo libro, a parte che è gigante, secondo me sarebbe stra un casino farne un adattamento o di qualsiasi genere, però si presta molto, secondo me. Mondo libresco preferito? Boh, mondo libresco preferito, anche qua cadiamo sempre un po' nel fantasy e io non lo leggo, quindi non spreghi nel mondo libresco preferito, perché leggo quasi tutti i libri che sono ambientati in questo mondo, quindi, boh, non rispondo, non so cosa dire. Stile di scrittura preferito? non ho uno stile preferito, nel senso che mi piace molto, mi piacciono diversi tipi di scrittura se sono scritti bene, cioè, mi piace quando la prosa è asciutta, mi piace, però mi piace anche quando ci sono tanti dettagli, dipende da come sono scritte le cose, mi piace moltissimo la prosa a Nierneau, molto fredda, molto analitica, però mi piace anche, che ne so, una prosa un pochino più ricercata, con tanti aggettivi, tanti dettagli, poi mi piace moltissimo anche il realismo magico, per esempio, ho apprezzato moltissimo Le Cattive, perché è un po' un mix di tutto, di tutte le cose che mi piacciono, lo stile di scrittura cambia, quindi, mi è piaciuto molto. Quale libro ami che è poco conosciuto? Libro che amo poco conosciuto, se non mi pensare, libro che amo poco conosciuto. Secondo me ho letto molto poco Le cose umane di Karine Twill e ho letto molto poco anche Il giorno in cui gli di fuoco alla mia casa di Francesca Mattei, che è una raccolta di racconti che mi è piaciuta tantissimo, però non ne sento mai parlare. Quale libro popolare che hai odiato? Le bracci, oh mio Dio, cioè io le bracci l'ho odiato, perché non si arriva mai al succo della situazione, cioè c'è sempre questo alone di succede qualcosa ma questa cosa non succede mai, tipo mi lasciava, avevo l'ansia, scorrevo le pagine per vedere se arrivava questa cosa, quindi no, quello non mi è proprio piaciuto, però so che è molto amato sia da BookTube che da Bookstagram, so che, insomma, le braccia è un libro molto molto chiacchierato, molto amato e pensavo piacesse anche a me, infatti non vedevo l'ora di leggerlo, però quando l'ho letto ho detto no, io non ce la posso fare, proprio sentivo un senso di ansia perché dicevo ma quando arriva sta cosa, quando arriva sta cosa, però non arriva, vabbè, le letture di infanzia preferite, Pinocchio, Pinocchio io l'ho amato tantissimo e il Mago di Oz l'ho amato tantissimo, Bui oltre la siepe, non mi era piaciuto molto Harry Potter, cioè nel senso io le avevo lette i primi tre, però dopo un po' mi sono stufata, non è che fossi una grande assidua lettrice, diciamo, mia mamma ha amato tutti i libri di Harry Potter, però io non sono mai stata una grandissima fan. Qual è un libro che ti ha cambiato la vita? Il muro di Sartre, quel libro mi ha proprio, cioè spesso ritorno magari a leggerne dei pezzi perché mi è piaciuto tantissimo, non saprei dire in che senso me l'ha cambiata, però è un libro che considero fondamentale, nella mia esperienza di lettrice. Libro che odiavi a scuola? Boh. Allora, io a scuola, a liceo facevo schifo, io non, io odiavo ogni tipo di imposizione, quindi se a me dicevano leggi questo, te lo scordavi che lo leggevo, infatti c'era il mio professore di italiano che era fissato con la valle dell'Eden di Steinbeck, molte volte ce lo dava da leggere e poi ci faceva le verifiche, era proprio fissato con quel libro e io, sempre scaricata la trama da internet, non l'ho mai letto perché non mi piaceva, non volevo leggere un libro perché mi era imposto, diciamo, poi invece l'anno dopo, l'anno dopo che ho finito il liceo, ho letto alla valle dell'Eden e hanno detto cazzo che libro, bello, veramente bello, quindi, cioè, è molto relativo, cioè, io lo odiamo a caso solo perché mi costringevano a leggerlo e io non volevo leggerlo, quindi, cioè, non è che lo odiassi perché avessi un fondamento, non l'avevo letto, solo che non volevo, insomma, leggere le cose in modo costretto, infatti penso che sia proprio questo un problema della scuola, no? Che ti costringono a fare le cose e quindi tu non le apprezzi solamente perché perlomeno io sono così, sono proprio una persona che se io mi sento costretta a fare una cosa non la voglio fare o se devo per forza farla la faccio male e se invece posso scegliere io magari cerco quella stessa cosa ma se l'ho scelta io lo faccio con uno spirito diverso, quindi secondo me il fatto di imporre la lettura a scuola non è sempre positivo perché per me non lo è stato per niente, io in quegli anni non leggevo. Compri per collezionare? Sì, se mi piace molto una collana di qualche casa editrice voglio averli tutti ma perché sono belli tipo Iperborea, sono comodi da leggere, mi piace molto il formato un po' più piccolino, sono bellissimi quindi li tengo un po' da collezione, infatti sono in salotto lì perché sono belli, però lì ci sono solo quelli che ho letto, quelli che non ho letto sono nell'altra libreria. Quindi sì, colleziono ma non colleziono nel modo standard, diciamo, i volumi belli da collezioni, collezioni e libri normali. Doni libri? Allora, dono libri dipende, è una domanda un po' scomoda, infatti questo anche si chiama domande scomode perché io vorrei un sacco, cioè se io potessi scegliere cosa regalare alla gente regalerei libri a tutti, però ho tipo un trauma perché quando ero all'università a Udine ho regalato alla mia compagna di università un libro, lei non leggeva, però io volevo farle questo regalo perché io un po' volevo che si avvicinasse alla lettura e un po' tipo quel libro mi era piaciuto tanto ed era L'ombra del vento di Zafon e quindi ho pensato di regalarglielo, quindi sono andata in libreria poi un casino non riuscivo a trovarlo perché in tutte le librerie di Udine era finito perché era stato scelto come libro di scuola di qualche classe, alla fine sono riuscita a trovarne una copia e quando glielo ho regalato ho visto proprio la delusione nei suoi occhi perché a lei non gliene fregava niente e sono certa che lei non l'abbia mai letto quindi ci sono rimasta di merda e quindi ho pensato cioè non regalo libri a chi non legge perché dopo so che va a finire impolverato sugli scaffali e fine della storia preferisco donare libri a chi li legge solo che non ho molti amici che leggono quindi quello è un po' un casino anche se recentemente tipo parlando con alcuni miei amici storici insomma che non leggono molto mi hanno detto se tu mi regalassi un libro io lo leggerei perché me l'hai regalato tu allora questo mi ha un po' dato la spinta quindi magari il prossimo Natale faccio un po' un Natale libroso a tutti i miei amici comunque dono libri per rispondere in modo sintetico direi no non li dono non li dono perché non voglio insomma regalare qualcosa che poi non viene non viene letto dicono se i miei amici leggessero allora sì qual è il tuo snack preferito da mangiare durante la lettura ecco questo cioè parliamo di questa cosa io non riesco a mangiare mentre leggo perché o mangio o leggo cioè non riesco tipo avere una mano mentre mangio e con quell'altra tipo cioè leggere girare le pagine sottolineare cioè non riesco io infatti quando vedo le persone che mangiano cioè che fanno le foto che sembra che stiano mangiando bevendo leggendo cioè non so come si fa bere ok tranqui però mangiare cioè io no cioè faccio un po' fatica non riesco a coordinare la lettura e il cibo quindi non mangio di solito la tua posizione preferita per la lettura io ho la sedia d'ondolo quindi leggo quasi sempre sulla sedia d'ondolo tempo fa avrei detto a letto ma ultimamente la vecchiaia incombe quindi io appena vado a letto cioè anche se vado a letto alle 9 perché tipo martin lui deve svegliarsi presto la mattina poi non so cosa hanno gli svedesi che devono andare a letto alle 7 e mezza di sera lui tipo alle 9 va a letto tipo vecchi e io non vado mai io dormo sempre più tardi verso le 11 e mezzanotte però magari certe volte se mi sento particolarmente che boh che non so cosa fare dico vabbè vado a letto pure io alle 9 e leggo ma io non riesco cioè tipo ultimamente proprio leggo una pagina può essere qualsiasi ora ma se io tocco il letto leggo una pagina e mi calda già la palpebra a fine della storia quindi io se voglio leggere se so che magari la sera la voglio riservare solo nella lettura io sedia d'ondolo e vado di lettura tisana e lì leggo poi luce naturale e luce di una lampada dipende se leggo di giorno luce naturale se leggo di sera lampada cioè questa domanda un po' x fuori o dentro dentro perché io quando sono fuori guardo in giro tipo anche le persone che leggono nei bar faccio un po' fatica io cioè leggo spesso con la musica quindi se ho le cuffie tranquilli cioè metto su magari una musica strumentare qualche colonna sonora e leggo tranquillamente però tendenzialmente leggo molto meglio casa mia se devo se devo scegliere rompere la copertina o mantenerla liscia perfetta allora io ho un problema con rompere tipo le le costine mi sento male cioè io non riesco a farlo piuttosto leggo tipo sollevando appena appena perché mi dà fastidio però c'è il maltratto non è che sono una che del libro deve essere perfetto chiaro che mi dà fastidio come dicevo prima che se me lo porto nello zaino poi si rovina però io comunque li sottolineo a volte sto cercando di contenermi anche perché sono un po' nell'ottica che vendo i libri che non mi piacciono perché non ha senso io ho talmente tanti libri che non posso tenerli tutti quindi cerco di tenerli abbastanza con cura perché penso che magari poi li do a qualcuno però sottolineo sempre magari poi cancello le sottolineature tempo fa facevo anche le orecchie adesso cerco di non farle più però sì per questo fatto se fossero libri miei e so che li voglio allora li rovino tranne la copertina perché mi piace vedere la copertina non rotta però insomma non sono una fissata legge in altre lingue sì leggo in inglese e in svedese leggo meno in svedese ma sto cercando di leggere di più perché comunque è una cosa che voglio fare io sono qua in svezia e i libri in svedese costano di meno e in più mi rendo conto che non so molto di letteratura svedese cioè paradossalmente studio letteratura in svezia e conosco molto meglio la letteratura italiana devo rimediare perché io poi voglio leggere letteratura svedese in svedese quindi però sì leggo in inglese in svedese in italiano quale serie di libri vuoi finire quest'anno nessuna di quale nuova uscita sei più entusiasta quale nuova uscita sono entusiasta non lo so cioè un mese fa avrei detto l'uscita di Veronica Raimo e di Gaia Giovagnoli perché aspettavo questi due libri con molta hype questo mese non so cosa esca non ho particolare hype io ho l'hype per il libro nuovo di Olga Tokarciuk e i libri di Jacob che è tipo un librone così che doveva uscire a gennaio poi doveva uscire a marzo adesso pare che esca a settembre quindi io sto aspettando quel cavolo di libro perché però ho ancora un altro libro di Olga Tokarciuk che devo leggere prima quindi ho tutto il tempo fino a settembre e poi parto con i libri di Jacob perché sono molto lo attendo con impazienza hai un book influencer preferito uno preferito non ce l'ho perché comunque con questa cosa di bookstagram si è creato un bel rapporto quindi io seguo tantissime persone sia magari perché mi piacciono i loro contenuti ma anche perché magari ci siamo incontrati che ne so al salone del libro ho incontrato diverse persone insomma che parlano di libri ed è stato molto bello e magari anche se i generi che leggiamo sono diversi mi fa comunque piacere seguire vedere che cosa leggono che cosa fanno eccetera quindi un book influencer preferito non ce l'ho uno però ne ho tanti magari posso citare Gaia appunto da cui ho visto questo video poi c'è Serafina che anche lei è un canale youtube che su instagram si chiama i libri di sera ho iniziato non tantissimo tempo fa seguire una ragazza che su instagram si chiama zona lettura che è anche un podcast e lei mi piace moltissimo cioè siamo molto sulla stessa lunghezza d'onda parliamo cioè parliamo di libri diversi però mi piace moltissimo quello che legge mi piace come come ne parla quindi la seguo con piacere poi c'è Delia che su instagram si chiama the reading polyglot una cosa del genere e lei anche lei è appassionata di lingue legge tantissimi libri in tantissime lingue quindi anche con lei mi trovo mi trovo bene a parlare al di fuori insomma dei contenuti che comunque mi piacciono ogni tanto magari ci scriviamo ed è sempre piacevole quindi non saprei dire chi mi piace di più però ce ne sono diversi che comunque mi piacciono molto ultima domanda sono già arrivata alla fine hai un canale blog o feed di social media? beh si blog no però ho instagram e potete seguirmi infatti ho questo canale youtube ho goodreads che aggiorno abbastanza quotidianamente e basta per ora non ho altro però insomma se volete seguirmi mi farebbe molto piacere fatemi sapere anche voi nei commenti se volete insomma anche voi rispondere alle domande poi comunque ve le scrivo giù nel box così possiamo anche confrontarci fatemi sapere se voi mangiate mentre leggete perché se magari sono solo io che non riesce e io vi ringrazio per averlo guardato per essere arrivati fino alla fine perché sarà abbastanza lunghetto mi immagino e ci vediamo al prossimo video ciao